50 Ferro Trambiaria è stato intitolato così il percorso di foto selfie organizzato dalle ferrovie del Nord Barese. Il primo premio è andato ad una studentessa di Ruvo di Puglia, premi anche a Barletta, Andrea e Bitonto. Ascoltiamo. Ruvo, Barletta, Andrea e Bitonto sono nell'ordine i quattro centri di provenienza dei vincitori del concorso di selfie 50 Ferro Trambiaria che l'azienda ha organizzato nell'ambito dei festeggiamenti per il cinquantenario della inaugurazione del collegamento Bari-Barletta. La premiazione nella sede di Ferro Trambiaria Bari alla presenza del presidente Gloria Pasquini e del direttore generale Massimo Nitti. La foto migliore è stata giudicata quella di Stefania Russo, da Ruvo di Puglia, che ha ricevuto poco meno di 12.000 voti, una migliaia in più del barlettano Giuseppe Di Colangelo, secondo classificato. Terza piazza per Francesco Guglielmi da Andrea e quarta per il bitontino Fabio De Pasquale. La prima classificata ha vinto un abbonamento valido sei mesi per tutta la linea, il secondo un abbonamento con validità trimestrale, il terzo un abbonamento mensile, il quarto si è giudicato una fotocamera. Per un paio di mesi, sul finire del 2015, nelle stazioni servite delle ferrovie del nord barese, comprese quelle del collegamento col quartiere San Paolo e con l'aeroporto, sono state realizzate delle postazioni in cui chiunque fosse in transito poteva scattarsi una foto da solo in compagnia. Quindi si doveva postarla su una pagina Facebook appositamente istituita, dove poteva essere votata dagli altri viaggiatori e da chiunque volesse partecipare. I risultati sono stati numericamente entusiastici, oltre 13.000 visualizzazioni del sito, più di 60.000 visualizzazioni delle foto, per un totale di 33.881 voti dati ai 102 partecipanti. E non è neanche un caso che i quattro vincitori, ed in generale la stragrande maggioranza di quanti si sono iscritti alla gara, siano giovanissimi. I primi tre hanno soltanto 21 anni, il quarto è a 24. In sostanza si tratta soprattutto di studenti che utilizzano le linee delle ferrovie del nord barese per raggiungere Bari.